Siamo quest'oggi a Lizzola con Eugenio Piffari che ci presenta il suo secondo libro. Il secondo, prima era L'Ultin Termen e questo è Tigni a Memorgia. Titolo volutamente in dialetto stretto di Lizzola, quasi una provocazione per ricordare che stiamo perdendo un po' tante cose, compreso il dialetto. Ma sulla falsa riga del primo diciamo? La falsa riga del primo? No, non esattamente. Il primo era diciamo tutta farina del mio sacco. Questo è un po' più, mi sono allargato, ho raccolto testimonianze della parte vera, della parte veramente significativa di Lizzola a mio avviso, tralasciando per l'amor di Dio qualche persona che se Dio vorrà riprenderemo il discorso. Fondamentalmente il libro è fatto da testimonianze di queste persone che hanno fatto grande Lizzola. Ho capito, quindi per chi volesse acquistarlo un anticipo su quello che troviamo all'interno di questo libro? Troveremo praticamente le testimonianze dei minatori, le testimonianze dei boscaioli, le testimonianze delle donne, soprattutto il grande lavoro delle donne, donne con 7-8 figli, con case da accudire, con i pascoli da accudire, con il letame, con tutto quello che era il lavoro preteso dalla montagna, dal vivere duro in montagna. E purtroppo, come diceva lei, cose che nel tempo si sono andate perdendo. Diciamo che questo è un po' il dramma di tutti i paesini di montagna. Noi stiamo perdendo l'identità, stiamo perdendo le tradizioni, stiamo perdendo la tenacia di queste persone. Chiaramente questo è il problema un po' di tutti, non solo di Lizzola. Quindi ne approfittiamo di questo libro per fare ancora una volta un salto nel passato. Sicuramente per andare avanti ritengo che sia indispensabile sapere cosa ci siamo lasciati alle spalle, da dove arriviamo e chi siamo, insomma. Per ringraziare, per rendere veramente omaggio a questa gente che sapeva vivere con niente e affrontare questa vita così dura e così difficile in un modo veramente pacato e con la normalità. Quindi a quanti saranno interessati all'acquisto, alla lettura di questo libro? Ha già un'idea di dove verrà distribuito, dove è possibile reperirlo? Allora, il libro verrà sicuramente dato gratuitamente agli abitanti del comune di Val Bondione e a breve sarà distribuito nei posti classici della provincia.